Una volta uno disse, ah che bello aprire il frigorifero e trovare il reverendo. Ed è così che hanno fatto uscire sto coso. Big Mothership. Tenant Unboxing! E adesso lo apriamo. Porca pu. Si slusha in modo bobo. E qui c'è l'involucro che lo bruciamo lì dove c'è il cammino. E qui abbiamo lo stemma del Teikoku Kagekidan. Molto rosa, molto gay. Un po' come Fabi J. Dentro possiamo vedere i cd. Insieme al gioco. Tutto molto sgaggio. E poi c'è anche l'artwork che hanno messo male. Ma io sono obesa. All'interno possiamo trovare il gioco dove qui c'è scritto Non buttare mai la spazzatura insieme a Gary Oldman. Abbiamo il cd delle canzoni del primo Sakura Wars. Del secondo. Del terzo. Con la citazione a Hitler. Perché Sakura Wars 3 è tutta una citazione a Hitler. Il quattro. Il settantuno. Quaterna. E poi abbiamo l'artwork che sembra la cosa più costosa dell'universo. C'è scritto Sakura Wars non toccarmi la prostata dal 1996 al 2019. Quindi dal 2020 puoi toccarmi la prostata. E qui abbiamo già gli artwork sempre di Titekubu. Qui abbiamo i Kobu che sono i robotoni. Perché il gioco si chiama Sakura Wars e non si chiama Ezio Wars. Ma adesso... Chi mi li dà i soldi indietro? Vieni con me in Brasile e ti do tutti i soldi tarranto. Va bene Gennaro! Oglione!